È la prima unit della Toscana dedicata al melanoma della pelle e nasce all'ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli. Qui, attraverso un numero ed una mail, i pazienti possono prenotare un controllo ed accedervi direttamente tutti i giorni feriali, compreso il sabato mattina. Trovano una risposta al problema del melanoma e dei tumori della pelle. In questa struttura ci occupiamo dalla diagnosi precoce, alla terapia chirurgica, alla terapia delle forme avanzate di tutti i tumori cutanei. Il melanoma Skin Center Unit è posto al quarto piano dell'ospedale di Ponte Anniccheri ed è fornito di ambulatori dedicati alla prevenzione dal follow up e dalla terapia chirurgica delle forme avanzate, fino anche alla chirurgia plastica ricostruttiva. È la raffermazione dell'importanza delle reti, del collegamento tra i diversi presidi ospedalieri, del collegamento all'interno dell'area vasta tra l'azienda ospedale universitaria e l'azienda territoriale e la rappresentazione di un luogo, la realizzazione di un luogo dove il paziente viene preso in carico dall'inizio alla fine in una patologia come quella dei melanomi, che è una patologia purtroppo in grande crescita. All'ingresso dell'ospedale è stato attivato anche un servizio di assistenza dedicata, gestito dal personale infermieristico ed amministrativo, al fine di gestire la presa in carico dei pazienti. Davvero un altro esempio di crescita di questo ospedale è il Santamena Annunziata, che in questi anni ha avuto oltre 40 milioni di investimento da parte dell'azienda sanitaria e che rendono questo ospedale uno degli ospedali primari a livello regionale. Grazie 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 Grazie